Il pilota automatico per superare l'inerzia degli investitori. Per inerzia si intende quello stato per cui non si riesce a reagire ad una data situazione ma si sceglie di accettarla passivamente. Questo modello di comportamento, così comune in molti aspetti della nostra vita quotidiana, si manifesta anche nelle decisioni finanziarie e nella tendenza a procrastinare importanti scelte legate ai nostri risparmi. Al centro del problema vi sono incertezza e indecisione, condizioni che portano a non indagare nuove opportunità di investimento e a rimandare continuamente. Negli ultimi anni i ricercatori hanno progettato sistemi automatizzati per contrastare l'inerzia. Ad esempio, nel campo della previdenza è stato osservato come in molti non fossero in grado di sottoscrivere un piano pensionistico, fondamentalmente a causa dell'inerzia. Cambiare le modalità di sottoscrizione e rendere automatica l'iscrizione al programma pensionistico, ovviamente con diritto di recesso, aumentava considerevolmente i tassi di adesione. Nel campo della consulenza finanziaria, il sistema del ribilanciamento automatico dei portafogli è uno tra quelli che meglio sembra aiutare i clienti a superare l'inerzia e di conseguenza a soddisfare i loro obiettivi finanziari. La chiave sembra quella di un approccio disciplinato sia che si tratti di investimenti o di un impegno a regolare il risparmio mensile. Un approccio che può aiutare gli investitori a evitare distorsioni come l'inerzia o l'over confidence, comportamento opposto ma non meno pericoloso. Di fronte a performance negative o ai timori dati da una forte volatilità dei mercati, o per contro in caso di guadagni di mercati. In rialzo, gli investitori possono agire o rimanere inerti, convinti di avere capito un dato trend. Ma l'interpretazione dell'andamento dei mercati non può essere così superficiale e per questo il sistema del pilota automatico si sta dimostrando particolarmente efficace per ridurre i bias comportamentali degli investitori e evitare danni inconsapevoli ma irriparabili. L'over confidence può dannegare i guadagni. L'over confidence, eccesso di fiducia in se stessi, ha effetti diretti sugli investimenti. Gli investitori troppo sicuri di sé possono infatti sovrastimare la loro capacità di identificare investimenti vincenti. Tradizionalmente per ovviare al problema è meglio detenere un portafoglio diversificato, così che il rischio non si concentri su uno specifico settore ma non sempre è sufficiente. Se nel caso dell'inerzia il controllo sugli investimenti è praticamente assente, nel caso dell'over confidence gli investitori credono che esercitare il controllo totale sui loro investimenti sia indispensabile portandoli spesso a interpretazioni distorte o, peggio, a un eccesso di trading. Brad Barber e Terry Odean, nel corso di un'indagine sugli investitori statunitensi, hanno scoperto come quelli più attivi, che sono intervenuti eccessivamente sui loro portafogli, hanno ottenuto guadagni inferiori, come si vinse dalla tabella sottostante il 20% degli investitori che hanno compiuto meno operazioni sui loro portafogli hanno ottenuto un rendimento medio annuo del 18,5% contro quello dell'11,4% di coloro che sono intervenuti con ricorrenti operazioni di compravendita. Riuscire a combattere i bias comportamentali, tipici della natura umana e ancora più evidenti quando si tratta di investimenti, è difficile ma, come dimostrato dagli studi di finanza comportamentale, alcune soluzioni possono aiutare una consulenza esperta e una strategia di lungo termine, basata su ribilanciamenti periodici sono un ottimo punto di partenza per proteggere il proprio capitale e non cadere nei tranelli della mente.